non è un'occhiata per me il pane c'è un posto a me o per l'occasione cosa è successo si è reso ma dice che se oma ma stronzo registrano io lo vetti non mi fido di giovanni giovanni si è chiusa la porta davanti aprile aprile non è chiusa aprite la bordo non la apre no non lascia fare senti non mi frega un cazzo e l'uccido no oh l'è velato di roro allora aspe no mi sa aspe dobbiamo ucciderla ci servono i suoi pezzi un momento no aspe uè la picchio cazzo oh apprendista di eh gli rompiamo il culo dai eh fermi porca puttana no aspe asco io ho perso hai perso hai perso no 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 cosa ha fatto il parma cosa c'entra cosa c'entra eh un sicilia non so se non ha scusato sono stato ma che scusato ci sono degli assassini che mi stanno uccidendo come devo fare aspe c'è un'esperienza madonna no no ma mi ha cavato chi è che mi ha cancellato il cavallo scusa aspe però qua mi dice aspe aspe andiamo da chi parla con qualcuno ma che cazzo stai dicendo uldi nel senso andiamo da chi sta deve aspe fatemi da me ma aspe oh uno due aspe una fermi tutti una aspe parlate a bregan ma chi cazzo è madonna ci sono degli scheletri da uccidere io me ne vado citiamo sti cazzo di scheletri ma chi è che ha detto che ci sono scheletri non è che te lo dico di vero dove brava sono malato e qui c'è un passaggio segreto no 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 non è enorme io di intelligenza ho 10 mio monaco non è molto svegliato sa essere saggio a suo modo c'è giovani lì lo possiamo molestare gioca papando sul suo telefono no 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 ciao ok dai no 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 beh non si fa questo mezzorco furioso sembra impazzito uccidiamolo via poverino non è un coglione se sei una bestia cioè beppe perchè ma scopo stogliare il coltello era un coglione scusate io odp decide dal mio dio santa panorra oh oh cazzo oh cazzo giova invece di stare al tele no 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 però non va bene stiamo facendo il dialogo pezzi di merito c'è noi qua faccio il culo e io lì a leggere cazzato qui al telefono ti ricordate la povera Annalia no ma raga ma io questo non lo aiuto è malvagio eh sì e io devo liberare la creatura del male provo esilio 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 allora ci propone il seguente scambio un arco finalmente costruito la forza di elm che ti assista o la mia intuizione di ciò che accade la figa ma voi immaginatevi quanta merda fanno sti lupi e cavallo seguendo se volessi cavallo vuole essere uscite rientrate giova non so bene ma io sono uscita aarca 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 aarca